che faccia strana che hai sembri già ubriaco dai pietro dacci di quel tuo buon figlio che gli dei chiamavano nettare d'uva e io vi dirò del mio bacco e di altre idee e non solo di come questo villaggio è nato ed oggi è diventato un castello guerrino oggi è il giorno della festa mi raccomando non ce la rovinare te prego e poi tu ma cosa parli di quei dei dei sei un pagano sei che ne so io io che conosco come è nato questo villaggio ma stai scherzando che siamo ora attacca con la storia del ciclope dovete sapere che il ciclope ha costruito le prime case di questo villaggio e per popolarlo ha accolto chiunque avesse bisogno in un tetto per dormire a domus este pistica e su coro est umano è un detto salvo antichissime parla dell'ospitalità significava a caso è piccola ma il cuore grande come ha fatto agostino con noi che ci ha accorto qua appunto agostino non è certo un ciclope nel corpo non è certamente di generosità è vero rimane il fatto che che è l'unico a essere corteggiato da due donne da madonna margherita e ora anche da madonna bianca devo stare attento alla mia dolce leonora se no mi sottrae anche quella ma smettila come al solito il guerrino si inventa tutto da bietro vieni ascolta la solita storia del ciclope di guerrino tanto vero non ne abbiamo mai sentita come sarebbe non credito la storia del ciclope ce ne siamo persone diverse litigano dicono di essere fondatori uno dice di chiamarsi ligure e chiama il villaggio livorno un altro ricrimina la fondazione e si chiama tirreno e lo chiama labrone altri alcuni dicono di appellarsi liburni è tutto confuso non riesco più a vedere c'è molta confusione padrona del villaggio diventa per prima la chiesa cattolica lo sapevo lo dovevo immaginare c'erano di mezzo loro figurati se la chiesa non si intrometteva il villaggio è conteso dai pisani dai genovesi dai francesi dai fiorentini che è distrutto e ricostruito più volte c'è una guerra una guerra dei morti dei morti e si fanno bene si verrà subito ma solo del vino lo c'hai ma portami dall'acqua adesso pietro Grazie.